FEDERA CHI IN ASSEMBLAE ANNUALE Torna a bilanci d'acciaio e lo fa in totale sicurezza il 12 novembre a Brescia la presentazione dello studio di Siderweb. Analizzati i bilanci di oltre 5.000 imprese della filiera. Focus su andamento del 2020 e previsioni a breve. Le iscrizioni sono aperte. Buongiorno e benvenuti al Siderweb Tg. Si apre un tavolo sulla siderurgia per arrivare a definire un piano nazionale sui temi strategici per la filiera. Energia, innovazione, ambiente, infrastrutture. È l'appello arrivato direttamente dall'assemblea annuale di Federa Chai che si è detta cautamente ottimista sul 2021. Per noi c'era Davide Lorenzini. Dal mese di giugno si è cominciata a vedere una ripresa, una ripresa che ci dovrebbe consentire di andare a chiudere l'anno con un meno 17%. Se la contestualizziamo e la mettiamo all'interno di questi eventi eccezionali che stiamo vivendo, credo che possa essere ancora una volta un dato che conferma la forza, la capacità di reagire della siderurgia italiana. Una capacità di reagire che sta permettendo all'Italia di fare meglio quanto a produzione di acciaio rispetto alla media europea, staccando Francia e Spagna e rimanendo al passo della Germania. E le previsioni per il 2021 sono di cauto ottimismo per Federa Chai che con l'assemblea annuale dello scorso mercoledì ha chiesto l'istituzione di un tavolo nazionale che avvii con il governo e le parti sociali una riflessione sulla siderurgia italiana per arrivare alla definizione di un piano industriale nazionale. C'è da lavorare, secondo Federa Chai, su priorità precise. Parlo di Industria 4.0, parlo del bonus al 110%, parlo della spinta alla ripartenza degli investimenti in campo per le opere pubbliche, i contributi ad Euro 6 nel mondo dell'auto, anche all'elettrico e anche al semi elettrico. Avere un costo dell'energia che ci renda e ci consenta di restare competitivi a livello europeo, il sostegno alla siderurgia anche sulla questione del level playing field. Il tema è un tema ampio sia a livello di recovery fund che a livello di discussione col Ministero, con il MISE, per cui credo che nei prossimi mesi ci vedrà fortemente impegnati in tutti questi temi e queste discussioni. E sull'ex ILVA il presidente di Federacciaio Alessandro Manzato ha ricordato come l'impianto di Taranto sia un asset necessario e strategico per tutta la filiera. Devo purtroppo constatare un'unica novità e cioè il profilarsi del ritorno dello Stato nell'azionariato. Benvenga questo intervento, ha detto Manzato, ma con uno stato in qualità di traghettatore, non di imprenditore. Proprio su un Taranto, Banzato ha ribadito la disponibilità delle acciaierie italiane a discutere le condizioni di fattibilità tecnica ed economica di un impianto di produzione di preridotto e HBI, la cui capacità in eccesso potrebbe essere utilizzato nelle acciaierie del nord per avere un'alternativa a rottame che in Italia scarsiggia proprio sull'ex ILVA. In settimana è stata raggiunta un'intesa tra ILVA in Amministrazione Straordinaria e ArcelorMittal Italia sul pagamento delle rate del canone di affitto degli impianti. L'accordo parla di un pagamento immediato del 50% del canone complessivo. La firma ufficiale è prevista per la prossima settimana. Torniamo per un attimo alle previsioni sull'andamento di produzione e domanda. Lo facciamo con l'ultimo short range outlook della World Steel Association. Per l'Italia si stima un calo del consumo del 21,5% nel 2020. Sentiamo. L'Italia chiuderà l'anno con un calo del 21,5% del consumo di acciaio, 19,6 milioni di tonnellate, contro i 25 milioni del 2019. A dirlo è l'ultimo short range outlook della World Steel Association. Quanto al 2021, l'associazione prevede un rimbalzo del 15,6% dopo il crollo di quest'anno. Dovrebbero essere consumati 22,7 milioni di tonnellate. A livello mondiale, gli analisti stimano una domanda in contrazione in modo inferiore rispetto alle precedenti previsioni. Previsioni per il 2020 che la indicano in flessione del 2,4% a 1,725 miliardi di tonnellate. Per il 2021, il consumo dovrebbe risalire del 4,1%, arrivando a 1,795 miliardi. Quanto ai settori utilizzatori, le maggiori preoccupazioni restano legate all'automotive, a prensione sulla meccanica, mentre la resilienza delle costruzioni dovrebbe aiutare i consumi del 2021. Ed ora andiamo a Terni, dove è arrivato l'annuncio di ThyssenKrupp. AST è ufficialmente in vendita. Ci spiega tutto Marco Torricelli. L'annuncio, dato a sorpresa da ThyssenKrupp nei giorni scorsi, ha di fatto impresso una accelerazione a quel processo che, già circolante da mesi, porterà alla dismissione di acciai specialiterni da parte del gruppo tedesco, che, per evidenziare la propria volontà, ha già provveduto a inserire l'acciaieria italiana all'interno di Multitrack, la divisione creata appositamente per ospitare le attività non considerate più strategiche e quindi cedibili. Per AST, quarto produttore europeo di acciaio inossidabile, dopo Autocump, Aperam e Acerinox, ci sarebbero già sei player disposti a richiedere l'accesso alla data room che sarà aperta, come da prassi, in casi come questo. Ma l'amministratore delegato Massimiliano Burelli ha già detto che almeno altri due se ne aggiungeranno a breve. E c'è sempre aperta la possibilità di assistere, anche per il sito ternano, a procedure di ingresso del capitale dello Stato simili a quelle in corso per Taranto e Piombino, cosa di cui si potrebbe parlare nel vertice che la sottosegretaria Alessia Morani ha promesso di organizzare a breve al Mise. Il prossimo passaggio, comunque, non potrà che essere quello relativo alla valutazione del sito ternano e da questo proposito risulterà decisivo il dato relativo al bilancio consuntivo chiuso alla fine del mese di settembre e che, stando alle indiscrezioni che circolano, sarebbe negativo in maniera pesante, confermando le anticipazioni fatte dallo stesso Burelli nei mesi scorsi, anche se l'incremento degli ordinativi relativi agli ultimi tre mesi dell'anno solare incoraggia ad un incauto ottimismo. Torna bilanci d'acciaio il 12 novembre a Brescia presentato lo studio di Siderweb che analizza in chiave strategica e prospettica il bilancio di oltre 5.000 aziende della filiera torna in totale sicurezza nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale. I dettagli. Torna bilanci d'acciaio e lo fa in presenza e in totale sicurezza nel rispetto delle norme di distanziamento sociale. Il 12 novembre a Brescia Siderweb presenterà al suo studio più importante l'analisi in chiave strategica e prospettica dei bilanci 2019 di oltre 5.000 aziende della filiera. Ma si parlerà non solo dei risultati dello scorso anno, anche di attualità e di futuro vista la rivoluzione che la pandemia mondiale ha portato. Verranno infatti presentati i risultati del questionario cui ha risposto nelle scorse settimane un campione rappresentativo di aziende della community dell'acciaio riguardanti i risultati di bilancio 2020 e le prospettive per il 2021. Dopo il contributo degli analisti sarà la volta dei protagonisti del settore Anna Mareschi Danieli, vicepresidente di ABS Acciaio e di Confindustria Udine, Roberto Re, head of Metinvest Europe e Giuseppe Pasini, presidente di Feralpi Group e Confindustria Brescia. L'appuntamento, come detto, è per giovedì 12 novembre dalle 15 alle 18 al Teatro Display di Via Caprera 5 al Brixia Forum di Brescia. In una location che permette di ospitare fino a 2100 sedute Bilanci d'Acciaio consentirà l'accesso a sole 400 persone. Le iscrizioni sono aperte, tutti i dettagli su www.siderweb.com Partecipando all'evento si riceverà una copia del libro Bilanci d'Acciaio 2020. E per quest'oggi è davvero tutto. Il Siderweb Tg vi aspetta puntualissimo come sempre. Venerdì prossimo, arrivederci a tutti. Grazie a tutti.